Negli ultimi tre anni sono stati girati in Puglia 200 film, i due terzi dell'intera produzione degli otto anni di vita di Apulia Film Commission. Sottolinea così la conclusione di un periodo che definisce straordinario l'assessore Silvia Godelli, ringraziando la presidente uscente per sua decisione, ha chiarito Antonella Gaeta, e presentando il nuovo presidente eletto all'unanimità. E il regista Maurizio Sciarra, barese per nascita e formazione, ma autorevole esponente del mondo del cinema nazionale ed internazionale. L'assemblea dei soci su proposta della regione lo ha eletto e con lui i consiglieri Simonetta dell'Omonaco, Gian Domenico Vaccari e Chiara Coppola. Una grande attenzione al territorio, che fra l'altro questa Film Commission in cui subentriamo e ha già avuto, è una grandissima attenzione all'estero. E' in questa direzione che il neopresidente intende lavorare approfondendo e rafforzando quello che ha definito un flusso virtuoso e anche produttivo, che dice, ha già reso la Pulia Film Commission famosa in Italia e fuori per la qualità del cinema che fa. L'assessore Godelli ha anche assicurato la copertura finanziaria da parte della regione dei progetti di Apulia Film Commission per tutto il 2015. Siamo pronti a una nuova stagione, la Film Commission ha dentro di sé tutte le potenzialità per svilupparsi ancora, è stato un bellissimo periodo con la Gaeta, sarà ancora più bello con Maurizio Sciarra e l'intera squadra che ci lavora.